su 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 guardate che in mezzo che bellezza ragazzi che macchina qui davanti a me mi potete spostare un attimo io non riesco a vedere per favore signora cos'è lasciato un po' di spazio a me qui davanti io devo commentare a lei ha dato gas sentito siete troppo ammassati siete troppo ammassati c'è c'è anche di attimo maggio la ragazzo salutare anche la polizia e ragazze anche loro guardate che bellezza ragazzo Valverino Valverino di Muciello con gran battito e muscolatura guardate qua il fatto di ferrari buonasera a tutti voi un applauso basta belle mani basta facciamoci sentire grande potenza delle ferrari guardate bellissimo buonasera a voi grazie grazie e vi faccio numero 531 l'avevo detto c'era un po' di rumore ma ne va per la testa grazie grazie guardate che macchina ragazzi ferrari che bello deve ancora venire ragazzi e il paese deve ancora venire e il paese e il paese vi raccomando guardate che bello con sicurezza è stata a tirare le ferie e le ferie un saluto anche la polizia grazie ragazze e a voi portiamo nella plaza con questi ragazzi guarda 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 però bambine ferma lì, muovi allora come andiamo? mi rivolgo a quei ragazzi da sotto a Martinucci allora ragazzi sotto a Martinucci come andiamo? tutto a posto? i fans di Melissa Santa dove sono? ragazzi non mi sento più non siete spariti ci sento o non ci senti? ci senti? oh ci sono ci sono ci sono ci sono tanto abbiamo messo a passare le prime fezzare dopo l'altro dopo lì per essere mi serviamo e lì per me ci sarà l'euforia totale penso l'euforia totale è un po' di noi e ancora la mia l'euforia è un po' di grinta con Napoli non si non si non si non si non si è un po' di grinta Chi vuole le pancherine, venga qui, non tramite, qui dove sto tornando io, vediamo le pancherine della mia amica, eh? Ho ricordo di questo passaggio qui a Sabino di Cucetto. La mia amica è la mia amica. 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 che sono nella storia arrivaranno nella storia e quindi a voi dove ti vuoi pipì la pagherina? andranno solo dobbiamo finire tutte ne avevamo buonina